Il candidato, il professor Gaetano Manfresi, ha riportato tra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei motivati e cioè il numero 218.151 motivati. Per campo il presidente, alle ore 12.10 del giorno 18 ottobre 2021, proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Napoli, il professor Gaetano Manfredi, salve le decennative decisioni del Consiglio Comunale, a termine dell'articolo 41,1 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Sindaco, buon lavoro a nome di tutti, in bocca al lupo, è una sfida importante la sua e tutta la cittadinanza a grande fiducia in lei. Grazie a lei, auguri e buon lavoro. Grazie. Grazie. Allora, sono un po' emozionato, mi discuserete, voglio ringraziare il presidente Garza e tutti i colori che hanno valutato, avevano un incremento in questa storia di risultato della riconosione. E tre autorità presenti. Io sono consapevole dell'opera che è una carica che assumo oggi, però sono anche profondamente convinto che la città presenta la necessità di una grande ripartenza di un futuro che guardi veramente a una dimensione della città che si arregna nella sua tradizione e nella sua scuola. E su questo ci sarà il mio massimo impegno. Il mio pensiero poi va a tutta la comunità dei cittadini napoletani che sicuramente contribuiranno con le loro qualità, con la loro essenza a questo grande progetto, per quale tante persone che soffrono, persone tante che soffrono della mancanza di lavoro, della mancanza di futuro, per le prospettive difficili di questo momento complesso, lo voglio, io lo sono convinto che un grande spirito di solidarietà e di impegno che è tipico della nostra città, sono in grado di dare una risposta a tutti. E io su questo c'è un impegno, un impegno non solo io, ma io credo di tutta la città, è un momento molto importante, un momento molto significativo. Io ho sempre detto che questa è una scuola progettiva. Io spero di riuscire a interpretare il migliore del mondo dentro tutte le mie forze, questo scritto omone di una nuova ripartenza della città. Sono veramente fiducioso che tutti insieme riuscire ancora da una prospettiva a Napoli che è così importante, non solo per me stessi, ma per più qualità di cose sono veramente grandi. Grazie. Applausi 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 Applausi